Prosegue anche ad Arezzo la campagna vaccinale anti-Covid. Arrivate questa mattina all'ospedale San Donato altre 2340 dosi. Vanno a integrare quelle che abbiamo ricevuto la volta precedente che è destinata alla vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti dell'RSA. Lo stock di vaccini Pfizer-BioNTech proveniente dal Belgio, così dopo un ritardo di un paio di giorni rispetto al previsto, è arrivato al San Donato, uno degli ospedali hub della Toscana. Saranno conservati in un congelatore a meno 80. Nel momento in cui arriva in questo contenitore speciale perché è adatto per la conservazione a meno 80, abbiamo un percorso da seguire particolare perché ci sono delle tempistiche che devono essere rispettate perché questi vaccini devono essere conservati in un modo particolare. Sono già circa 1.200 gli aretini vaccinati contro il Covid, 700 operatori sanitari e 500 ospiti dell'RSA della provincia. Sono state vaccinate tutte le persone per tutte le dosi. La copertura ad Arezzo è praticamente completa. Questa nuova scorta di vaccini ci consente infatti di riaprire le prenotazioni. Le dosi dell'altra volta sono state fatte tutte dal 31 all'8 incluso. Adesso con le ulteriori dosi arrivate potrà così proseguire la fase 1 della campagna vaccinale. Già oggi pomeriggio noi cominceremo a preparare, ad allestire le preparazioni perché questa viene considerata come un allestimento galenico perché andiamo a sconfezionare una confezione da 195 e facciamo delle confezioni a seconda della richiesta del centro di vaccinazione. Grazie a tutti.